che partita la Cruyff Arena veramente bella per chi ama il calcio stasera si è divertito perché al di là del tifo al di là di ogni cosa si è vista una partita di calcio bella bella giocata da ragazzini da ragazzi che veramente col pallone ci fanno ci fanno quello che vogliono ma lo giocano bene da squadra lo giocano bene da squadra con pochi tocchi a divano in porta e sono bravi sono bravi una gara che poi alla fine sì non dico che me l'aspettavo non mi aspettavo questa intensità questa intensità da parte dell'ex per tutta la gara mi aspettavo che si giocasse così la partita e devo essere sincero che poi magari in contropiede io credevo che la Juventus colpisse e colpisse forte con magari trovando anche il gol della vittoria così non è stato niente pazzesco 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 il gioco al volgente dell'ex che comunque è andata sotto non se ne è fregata a meno di zero è iniziato il secondo tempo e ha subito trovato il gol sicuramente Cancelo li ha fatto una cappellata che Adani Adani faceva il maestro nel primo tempo quando ha servito l'assist a Ronaldo ma non sa difendere e poi ha fatto una cappellata lì dietro lì ha fatto uno stop superficiale al massimo e hanno preso gol hanno preso gol per colpa di Cancelo e Cancelo Cancelo queste cose le fa rarissimo formidabile lì davanti ma dietro dietro una cappellata te la combina sempre e niente niente la Juventus ha giocato la gara cioè questo è lo stile di Allegri lo stile di Allegri è questo la Juventus è brava a subire come ha detto lo stesso Adani è la squadra che sa subire meglio cioè io credo che in queste partite quando la squadra avversaria cioè l'Aex ti surclassa dall'inizio alla fine qualsiasi altra squadra ma proprio qualsiasi altra squadra sulla faccia della terra stasera ne prendeva ne prendeva almeno tre la Juventus è quella squadra che nonostante viene surclassata dall'inizio alla fine riesce comunque a portare in cascina il risultato portare l'uno a uno alla uscire dalla Cruyff Arena con un risultato di uno è fantastico è fantastico meglio di così per la Juventus non si poteva mettere è un pareggio d'oro perché poi al ritorno giochi in casa all'Allianz lì è un fortino lì è un fortino e spugnare l'Allianz nonostante questi ragazzi siano bravissimi la vedo dura la vedo veramente ma veramente dura però il calcio ti insegna che non c'è non c'è nulla di certo e c'è da dire c'è da dire che questa squadra qua l'Aex non è di certo una squadra timorosa perché poi alla fine ne ha fatti quattro al Real ma dove? al Bernabeu quindi io non credo di vedere questo posso dire non credo di vedere un epilogo simile a quello che abbiamo assistito al ritorno tra Juventus e Atletico Madrid io credo che anche perché giustamente 1-1 deve andare e deve trovare il gol all'Aex anche per questo motivo giocherà giocherà si giocherà la partita giocherà aggressivo giocherà allo stesso modo magari con qualche titubanza di più qualche errore di più magari meno sicurezza può darsi ma io credo che giocherà si giocherà la gara all'Aex all'Allian Stadium vedremo vedremo come andrà ma fatto sta che la partita di stasera stasera mi ha divertito ha visto uno spettatore attivo dall'inizio alla fine perché si è visto una bella gara di calcio e questa squadra l'Aex dimostrato di meritare assolutamente il piazzamento dove si trova al momento assolutamente 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 niente vedremo non è inutile dilungarsi nella Juventus è entrato Douglas Costa un giocatore pazzesco ti cambia ti si è inventato da solo un'azione poderosa dove è andato a concludere prendendo il palo pazzesco 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 la Juventus poi alla fine ripeto è quello che ho già detto la Juventus è l'unica squadra che può essere surclassata ma allo stesso tempo è quella che porta a casa il risultato è maestra in questo è maestra anche stasera poi facciamo il conto magari possesso palla estremizziamo 80% però se va a vedere l'occasione da gol forse qualcuno in più l'ha creata la Juve e non l'Arax perché questo è lo stile il modus operandi di Allegri lo so che farà storcere il naso a tantissimi tifosi di Juventini ma poi alla fine contano i risultati e vediamo dove questi risultati portano giudichiamo alla fine giudichiamo alla fine l'operato dei singoli della collettivo e dell'allenatore fatto sta veramente una bella partita di pallone bravi bravi tutti bravi brava bravissima l'Arax a fare un gioco incredibile e comunque bravissima anche la Juventus lì dietro a sapersi contenere è maestra in quello saper contenere gli affondi dell'avversario un grande abbraccio da Neschi